A distanza di 23 anni dalla sua ultima pubblicazione, nel febbraio 2023 è uscita in Giappone la ristampa del manga Fire, rivoluzionaria opera di Hideko Mizuno. Se il nome di Hideko Mizuno non vi dice nulla qui in Italia, sappiate che abbiamo conosciuto una delle sue opere più famose attraverso la serie animata Le Meravigliose Avventure di Hani Hani, da noi giunta con il titolo Fiorellino Giramundo. Hideko Mizuno può essere, a ragione, considerata una delle madri dello shoujo manga e ha contribuito enormemente al suo sviluppo, introducendo nelle storie a fumetti per ragazze temi scottanti ma importantissimi e che per l'epoca erano dei veri e propri tabù. Il manga Fire sconvolge i tradizionali canoni dello shoujo manga e allarga la platea delle lettrici alle adolescenti quasi adulte. L'opera viene infatti serializzata sulla rivista di moda Seventeen di Shueisha nel 1969 e viene conclusa nel 1971. Nel 1970 vince il quindicesimo Shogakan Manga Award, un premio prestigiosissimo. In occasione di questa ristampa, Mizuno, all'età di 83 anni, ha disegnato due nuove copertine per i due tankobon, ognuno dei quali contiene una storia breve e inedita, Pink Floyd, gruppo amato moltissimo dall'autrice, e Kate Jarrett. Inutile dire che se questo manga venisse pubblicato in Italia sarebbe un vero colpaccio e noi potremmo godere di un'opera che ha fatto davvero la storia del manga. Prima di passare a raccontarvi la storia di Fire, ancora qualche fatto importante su Hideko Mizuno. Profondamente ispirata da Osamu Tezuka, comincia la sua attività di mangaka a soli 15 anni. Nel 1958 Mizuno viene invitata proprio da Tezuka a trasferirsi nell'edificio Tokiwa di Tokyo, una specie di condominio studentato che divenne in quegli anni una sorta di residenza artistica poiché ospitò una serie di mangaka esordienti. Unica donna dell'edificio, Mizuno collabora con grandissimi autori, quali Shotaro Ishinomori, autore di Cyborg 009, e Fujio Akatsuka. Resta nell'edificio Tokiwa per un anno e da lì in avanti la sua carriera proseguirà alla grande con opere straordinarie. Alla fine della pubblicazione di Fire, Mizuno si scopre incinta. Suo figlio nasce nel 1973 e lei diventa madre single e per un certo tempo deve rallentare con la produzione di manga, continuando comunque a regalare al suo pubblico nuove storie fino al 1993. E veniamo così a Fire, una storia incredibile, capace di far calare perfettamente i lettori nel contesto giovanile dell'epoca, analizzando a fondo quella che era la controcultura americana degli anni 60. Perché è proprio in tale contesto che la storia è ambientata all'interno di una società americana in evoluzione, nella quale i movimenti giovanili si battevano contro la guerra in Vietnam, famoso il Love and Peace Movement fondato da John Lennon e Yoko Ono, contro la discriminazione razziale e a sostegno dell'amore libero. La storia potrebbe essere non proprio precisissima, visto che ho dovuto ricostruirla attraverso varie fonti, soprattutto giapponesi, ma ripeto, la mia grande speranza è che qualche casa editrice si svegli e ci porti il manga in Italia. Con tutto quello che arriva, un manga di tale portata potrebbero anche tradurcelo. Ma più che altro credo che ci siano state un po' di beghe sui diritti, visto che anche in Giappone è stato ripubblicato solo dopo 23 anni. Altro primato che spetta a Fire è il fatto di essere il primo shoujo manga ad avere come protagonista un ragazzo, Aaron, un adolescente povero dell'Ohio, modellato sul cantante Scott Walker. La storia si apre tuttavia con John, amico e collega musicista di Aaron, che ci fa conoscere i fatti attraverso i suoi ricordi. Tenete dunque presente che per tutto il tempo è John che ci sta narrando quanto accadde ad Aaron. Ed entriamo così nella storia che ha inizio poco prima di Pasqua. Il giovane Aaron desidera regalare a sua madre un cappello per le festività e dopo aver lavorato duramente per racimolare i soldi, si reca al negozio che però è chiuso. In un turbinio di coincidenze e fatali casualità, Aaron si ritrova ad essere creduto un ladro e coinvolto, insieme a un certo Firewolf, in un inseguimento della polizia. Finisce così in un carcere minorile dove conosce una vita di stenti e sofferenze, è costretto ai lavori forzati e più volte viene picchiato dalle guardie. Ma un giorno, udendo il suono di una chitarra, comprende che quello è il suono della libertà. E quel suono proviene proprio da Firewolf, da colui che lo aveva fatto finire in carcere. Wolf è una persona libera che ripudia la guerra e che rifiuta di arruolarsi nell'esercito e Aaron lo prenderà subito ad esempio. Proprio durante i suoi giorni di prigionia, Aaron troverà conforto nella musica. Il ragazzo ha un talento innato e un giorno si siede all'organo della chiesa del riformatorio e comincia a cantare incantando tutti. Uscito di prigione, il ragazzo si legherà proprio a Wolf, ispirato dalle sue canzoni. Il legame che si crea tra i due, a mio personale parere, sembra quasi andare oltre la semplice amicizia. È un vero e proprio incontro di anime, che però non è destinato a durare. Wolf muore infatti in un incidente in moto. Aaron eredita la sua chitarra e decide di portare avanti la sua passione per la musica. Parte così per Detroit, dove incontra le persone che andranno a costituire con lui la rock band dei Fire. John, che scopre il talento di Aaron e che per lui sarà come un fratello maggiore. Angel, il tastierista. Riff, il bassista, il quale andrà incontro alla morte e sarà poi sostituito da Charlie. Aaron si immerge così nel mondo della controcultura americana degli anni 60 e ciò significa anche imparare a conoscere il sesso e a sperimentare le droghe. La fotografia su quel mondo è particolarmente realistica e mezzo uno ce lo fa conoscere appieno. Fire, infatti, è stato anche il primo shoujo manga nel quale è stata disegnata una scena di sesso. Aaron, infatti, nel corso della sua storia avrà diverse ragazze. A Detroit, oltre a conoscere inizialmente John, fa un incontro fatale con Marge Campbell, che diverrà una vera e propria musa ispiratrice al pari del compianto Wolf. Marge è una cantante libera, non vuole appartenere a nessuno e non vuole cedere alle logiche commerciali. Il suo canto è un vero grido dell'anima. Intanto, il gruppo dei Fire si consolida e arrivano i primi grandi successi. Più è grande il tormento di Aaron e più la sua voce arriva al cuore delle persone. Pur non riuscendo ad ascoltare la musica, essendo un'opera cartacea, i Deco Mizuno ci trascina, pagina dopo pagina, in quella sofferenza e in quella smania di libertà e di rivalsa tipica dei giovani di quegli anni. Le tavole che ritraggono Aaron mentre canta sono molto suggestive, i contorni sfumano e si ha l'impressione che i personaggi siano avvolti dalle note e dalle luci dei riflettori. Intanto arriva il primo demo e i Fire partecipano a un contest vincendolo. È l'occasione per Aaron di fare il suo incontro con un'altra bravissima cantante, Diana Shaw, alla quale si legherà sentimentalmente. Aaron non è il classico eroe degli shoujo manga, è completamente imperfetto, impulsivo, a tratti anche cattivo e porta più volte Diana a soffrire e a ingelosirsi, visto il suo interesse per le altre donne. Tra i due vi saranno molte incomprensioni e si separeranno per un po'. Intanto Diana, il gruppo afro dei Black Blood e i Fire, ormai popolarissimi, partecipano a un concerto durante il quale si verificano numerosi tafferugli. Marina, la sorella di Reef e fidanzata di John, viene colpita agli occhi dai colpi esplosi dalla polizia e perderà la vista. E anche Reef sarà colpito a morte. Al dramma si aggiunge dramma perché Diana, già malata di cuore dopo una ricaduta più grave del previsto, spirerà in ospedale, non senza aver prima detto ad Aaron che veglierà per sempre su di lui. Trascorre ancora del tempo, i Fire sostituiscono il bassista, mentre Aaron si lega sentimentalmente e sessualmente a Marge Campbell, che in effetti era stato il suo primo amore. Ma il desiderio di libertà a tutti i costi, il non volersi più sottomettere a nessuna logica di mercato e il desiderio di condurre una vita completamente antisistema, porta Aaron gradualmente a rifiutare incarichi e contratti. Vuole cantare ciò che gli proviene dal cuore, senza schemi e senza compromessi. I Fire ricevono un invito anche al festival di Omaha. Qui Aaron arriva a criticare perfino Woodstock, un festival che si sarebbe piegato, secondo lui, a interessi commerciali. Il denaro non può comprare la gioia, perché voi ragazzi pagate per avere la musica? A questo grido la folla inizia a correre, si creano ulteriori scompigli e interviene la polizia. Risultato? Centinaia di persone ferite e altre 10.000 arrestate. A seguito di questi accadimenti il gruppo Fire si scioglie e Aaron organizza una libera comunità chiamata Freedom. Giovani fan lo seguono ovunque, diventando un vero e proprio simbolo dell'antisistema. In diverse aree del paese non sono visti di buon occhio, sono persone scomode che rifuggono le regole e l'autorità e in alcune zone il loro ingresso è vietato. Arrivati nel sud conservatore, la comunità Freedom comincia a cantare canzoni contro la discriminazione etnica e contro la discriminazione verso i giovani. Nuovamente questi giovani restano coinvolti negli scontri con la polizia. Numerose persone muoiono, mentre Aaron si ferisce alla mano destra che resta praticamente schiacciata. I membri del collettivo diventano dei veri fuorilegge inseguiti verso le montagne rocciose e giungono così fino al Nevada. La situazione precipita, Aaron viene trovato e ricoverato in ospedale. In preda al delirio, il ragazzo brucia la chitarra di Wolf. Infine si ritrova in un ospedale psichiatrico e sembra ormai non riconoscere più nessuno, nemmeno sua madre. Intanto nasce il figlio di Marina e John, la donna però muore a seguito del parto. Sul finire della storia, al lettore sembra di vedere Aaron seduto su una sedia, ma nessuno ormai può più entrare nel suo mondo. Aaron vive in un mondo tutto suo, dal quale tutti sono esclusi. John, che ci ha fatto vivere la storia attraverso i suoi ricordi, conclude dicendo che, come Aaron, continuerà a suonare volando sull'orlo della follia. Fire rappresenta un piccolo capolavoro nel panorama manga, una pietra a miliare, non necessariamente shoujo. In realtà Mizzuno dichiarò più volte che non aveva intenzione di scrivere una storia per ragazze. Certamente intendeva aprire una finestra sulla società americana di fine anni 60, affrontando i temi più scottanti dell'epoca, la ribellione giovanile contro la guerra in Vietnam, i movimenti pacifisti, la discriminazione etnica, la lotta per i diritti civili, riuscendo a fotografare un mondo estremamente variegato in modo realistico. Il suo protagonista finisce in questo vortice e ne resta completamente avvolto. Aaron è un'anima pura, fin troppo fragile, incapace di piegarsi al compromesso. Il sogno di Aaron viene spinto all'ennesima potenza, portandolo a bruciarsi completamente. Il concetto di libertà di Aaron è estremo e punta all'anarchia. Nessuna autorità può essere prevista, nessuna schematizzazione e nessun vincolo. Cosa vuole essere Fire? Una critica alla società del tempo che portava effettivamente molti giovani come Aaron a bruciarsi? O un inno alla libertà più pura e sfrenata? Non c'è bisogno di dare una risposta. Mizuno ci consegna uno spaccato dell'epoca incredibilmente verosimile, che fa battere il cuore ad ogni pagina, che ci porta a sognare e soffrire con il protagonista. Non è necessario dare giudizi. Il finale, drammatico, è solo una logica conseguenza di una storia permeata dal desiderio sfrenato di vivere la vita al massimo e senza regole imposte. Bene, e qui si conclude la mia narrazione su Fire. Spero di avervi dato più di uno spunto di riflessione su una storia davvero incredibile, purtroppo ancora poco conosciuta. Io per oggi mi fermo qui, aspetto come sempre i vostri commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!